Sono l'11.18 del 19 febbraio 2024, mi trovo ad est del mio bel paese, Luco de Marsi. Ecco qui, questa è la parte estrema nord-est. Ammiriamo anche se oggi un po' nulo, però guardate com'è bello il mio paese. Giro piano, 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 vi faccio vedere l'intero paese, Luco de Marsi, provincia dell'Aquila, fa circa 6.000 abitanti. Regione Abruzzo, guardiamo ancora più di là, però se rimpiccolisco abbiamo una visualizzazione più completa. Ecco, transita un autotreno ad articolato, vediamo un po' se si vede qui più avanti. Seguiamolo, eccolo qui, transita sulla variante, beh adesso non si vede più. Comunque, facciamo di nuovo in piccolere e guardiamo nel contempo sempre la visione sommaria del comune di Luco de Marsi. Ecco di nuovo l'autotreno, ad articolato, chiamatelo come vi pare. Beh, e quella è la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Vedete? Ma certamente, Santo Sereno era meglio, quella è Via del Monte. Abbe. Abbe.